Il Presidente della Repubblica è venuto qui in Parlamento Europeo a fare un discorso largamente condivisibile sui principi di solidarietà, sui principi europei che ci dovrebbero unire, a cui non si può dire che siamo contrari. Sicuramente ci si aspettava qualcosa di più forte, una presa di posizione più decisa da parte di un capo di Stato come Sergio Mattarella. Io non l'avevo mai visto il Presidente della Repubblica parlare perché comunque non sono stato all'incontro che c'è stato a Roma per altri impegni e devo dire che purtroppo dal punto di vista comunicativo, dal punto di vista di verve, non è stato molto incisivo, molto trascinante nei confronti dell'Assemblea che la vedevo un po' distrata. Ho fatto un discorso di protocollo, sicuramente sono concetti condivisibili, però non credo che abbia sfruttato questo momento per imporre la presenza o comunque l'importanza dello Stato italiano sulla scena europea, almeno dal Parlamento Europeo.